L'importanza della pressione nella laminazione, e qua siamo in un posto di pressione, ne abbiamo tanta, tantissima, in tutti i sensi, ma in questo caso stiamo parlando di pressione nella laminazione, in questo caso delle vere, però insomma laminazione sono di tanti tipi, insomma la neanautica tipicamente viene in mente la laminazione dello scafono, cosa si cerca di fare, si cerca di mettere insieme i vari materiali che vanno messi insieme tenendo solamente il minimo di colla o comunque di resina necessaria per mettere insieme i materiali strutturali o i materiali di riempimento che siano necessari, eliminando chiaramente la colla in eccesso, la resina in eccesso e anche e soprattutto l'aria, l'acqua, l'umidità che ci possa essere all'interno, in mezzo che poi può essere, può generare problemi non dopo. Esatto, diciamo che porta alla delaminazione. Quindi di stacco, sono come se fossero dei piccoli nuclei che piano piano, quando comunque il materiale... si muovono e quindi esercitano una pressione all'esterno tale da rompere i legami che si creano tra i vari strati. E appunto qua arriviamo a un concetto fondamentale, nel senso che il sottovuoto serve per aspirare tutte le, tra virgolette, impurità, ma anche per applicare pressione. come diceva appunto la costruzione delle barche sottovuoto, nelle vele diciamo che... E' stata applicata, sì. E' stata applicata, esatto. La vele è stata applicata notabilmente dal famoso 3DL. Della Norte, esatto. E tu sai meglio di me come veniva fatto e loro applicavano il vuoto alla membrana. Esatto. Allora, quello che veniva fatto sostanzialmente era di produrre la vele direttamente su questi stampi tridimensionali, quindi degli stampi che venivano gestiti a martinetti idraulici, a livello pratico erano tipo delle stecche, fondamentalmente delle stecche tonde che davano la forma, adesso non so se sia ancora esattamente così, ma penso che più o meno sia sempre così, comunque davano la forma a questi mold e tu sul mold creavi già la vele, quindi iniziavi a disporre il film di base, quindi attaccando i vari strisce, i vari pannelli del film di base, poi dopo stendevi le fibre già su questa superficie tondeggiante, chiamiamola così, quindi molto simile a quella che sarà la forma della vele, diciamo simile in un certo senso alla forma della vele volante, che poi ovviamente non era twistata, però diciamo aveva più o meno quella profondità di una vele come fosse una vele pazzata. Esatto. Esatto, le fibre venivano disposte con questo patino chiaramente che andava avanti e indietro, similmente come va adesso, però disponeva questa fibra, chiamava continua, quindi quella che partiva da un angolo e tipicamente finiva all'altro, che però creava questa produzione della vele proprio direttamente sullo stampo. Il tutto veniva chiuso da altri, da altri chiaramente pannelli del film, che veniva chiamato top film, film diciamo superiore, sempre con la sua colla, con la sua colla, e il tutto veniva chiuso in un vuoto praticamente, veniva messo sotto vuoto con una pellicola, veniva aspirata, aspirata all'aria, no? Esatto. Questo era il sistema produttivo classico del 3DL che adesso è uscito di produzione sostanzialmente, però questo era il loro sistema. Ricordiamo che il vuoto, quando uno fa il vuoto applica una, diciamo, una sottopressione di 0,8-0,5 bar, che più o meno corrisponde ha una pressione di un chilogrammo per centimetro quadrato. Di un chilogrammo per centimetro quadrato, qualcosa meno, no? Sì. Pensate invece a un decimetro quadro, più o meno che potrebbe essere una persona, tipo me ad esempio, anche se il piede è molto grosso, una persona sulla punta di un piede solo, ecco io sono a 95 kg, se io mi metto su un piede solo e esercito una pressione, una pressione che è simile alla pressione del vuoto. Di un vuoto di 0,8 bar. Che è già un vuoto fatto molto bene, realizzato molto bene, perché poi insomma non è che i vuoti sono tutti uguali, insomma, quello fatto bello sigillato, con una bella aspirazione, arriva più o meno a quella pressione. Poi oltre un certo livello non riesci più a succhiare. Esatto. Però diciamo che le vele... Tu saresti un vuoto un po' più scarico. Io sono un po' più scarico. Ormai sei leggero. Diciamo, una piotta non ci arrivo. Esatto. Però diciamo che le vele 3DL hanno presentato un problema, tant'è che poi, per cui non stiamo dicendo segreto, di Norte ha cambiato prodotto. Il problema delle vele 3DL era che incorrevano in una delaminazione abbastanza presto. Abbastanza rapida, appunto. Appunto per il fatto che tu, come anche succede negli scafi che non puoi schiacciare una superficie, una superficie su stampo, sempre che lo stampo non sia molto rigido e tu non abbia qualcosa di molto, diciamo, o molto conformato o comunque molto potente per schiacciare. Nel caso della stampa 3DL, come vi ho detto, insomma, è una cosa, una struttura aerea piuttosto fragile, quindi non è che ci puoi schiacciare sopra chiaramente, e quindi faceva conto soltanto sul vuoto per l'eliminazione dell'aria e delle impurità e delle potenziali ragioni di una delaminazione futura. Infatti la delaminazione interveniva abbastanza presto. Chiaramente avevi il vantaggio del filo continuo, il vantaggio della vela costruita direttamente sul molde, ma avevi lo svantaggio, chiaramente, di questa laminazione che non era granché, appunto, per il fatto che non c'era molta pressione. Esatto, e a quel punto, quindi, diciamo che la velleria mondiale ha un po' percorso la strada di applicare più pressione possibile durante la fase di laminazione. Questo per garantire una laminazione migliore, quindi ritardare o annullare la delaminazione, e anche garantire leggerezza, e che più pressione io posso applicare, meno colla posso mettere, quindi ho una vela comunque banalmente più leggera. Certo, la colla la puoi usare sia, chiaramente, per mettere insieme delle punte di superficie, eccetera, oppure anche, addirittura, semplicemente, per riempire lo spazio e rendere la superficie rata più omogenea, tra un filo e l'altro. Chiaro che più metto colla, più una superficie diventa piana, fondamentalmente, però questo, chiaramente, vuol dire che aggiungi del materiale che fondamentalmente, strutturalmente, serve a poco niente, in più aggiungi un sacco di peso, in più in realtà magari ti provoca delle rotture, delle careppe, perché questo è un altro problema, perché poi cristallizzando poi ti crea altri problemi. Quindi la colla è bene eliminarla il più possibile, chiaramente. E quindi, appunto, diciamo che si è andati nella direzione di applicare più pressione possibile, quindi pannelli viatti su un tavolo, sostanzialmente, su un tavolo. Sono superficie piana, sono superficie piana, che a quel punto lì, a quel punto lì è chiaro che sono superficie piana, invece io posso schiacciare, quindi si usano, non so, tu chiami il trattorino, si usano dei laminatori, che sono praticamente dei rulli delle macchine molto pesanti, come se fossero dei grossi schiacciassassi, come quelli che si usano per, diciamo, per l'asfalto, sostanzialmente sono molto molto simili, e questi chiaramente producono una pressione non da poco, quindi praticamente la pressione di, nel nostro caso, 18 vittori sull'avanzi, 16 vittori, sopra la schiena del singolo, tutti su un solo piede del vittorio. Esatto, molto forte. Esatto, quindi sono tantissimi vittori. Sì, diciamo che riusciamo a fare di 18 kg per centimetro quadrato, esatto. Esatto, quindi praticamente sono 1800 kg per decimetro quadrato, nell'esempio di prima, e quindi 180 tonnellate al metro quadrato. Esatto, quindi diciamo, approssimando, si riesce a dare una pressione 18 volte quella di un ottimo vuoto. Di un ottimo vuoto, che, ripetiamo, non è aumentabile oltre un tot, non può proprio arrivare. Questa è una cosa, infatti la stessa Norsega, devo dire, ha cambiato produzione, infatti adesso anche loro fanno gran parte della lavorazione sul piano, appunto per poi compattare bene il loro laminato, poi dopo fanno, in realtà, la parte finale, viene poi fatta di nuovo su stampo, però diciamo che vengono prodotti, a questo punto, dei pannelli che non hanno più, chiaramente, il filo continuo, perché non possono averlo, perché chiaramente o tu dai la forma come veniva fatta, appunto, o tu crei proprio la vela su stampo, quindi adatti i film, gli fai fare più o meno alla curva i film, che in teoria non vorrebbero farlo, però li fai fare, loro si prendono i loro grassi in un certo senso, quindi nelle loro sovrapposizioni si prendono, ma perché proprio tu ti stai costruendo sul mold, e poi dopo invece i fili li fai proprio, in quel modo lì li fai proprio conformati allo stampo, oppure, obbligatoriamente, devi fare superfici piatte, però poi avere una forma, devono essere assemblate secondo una certa curva, quindi chiaramente una curva positiva, almeno ci deve essere, su ogni giunzione orizzontale, ci deve essere, perché la vela abbia una forma concava. E certo, non c'è dubbio, la classica tecnica dei versi rastrimati, diciamo che un lato dritto, un lato è curva, a differenza di lunghezza e tensione, diamo la forma. Oppure due lati curva, oppure un lato più curva e l'altro, l'altro meno curva, però diciamo, vabbè, in ogni caso devi in ogni caso creare, creare una situazione del genere, che se non viene creata, se non viene creata la vera non ha forma. Esatto, perché ricordiamo, noi partiamo da una superficie 2D, andiamo a creare poi una superficie tridimensionale. Però la domanda è, riuscendo quindi ad applicare una pressione così alta, a prescindere dal vuoto, il vuoto a questo punto è superato? No, perché infatti dici, cosa mi serve quell'extra pressione creata dal vuoto, nel momento in cui posso agire con il mio schiaccio sazzi? Beh, in realtà serve, serve tanto. Sì, diciamo che serve, durante la fase di rullaggio, quindi di schiacciamento della vela, serve per mantenere la vela ferma, e comunque aspira, cioè tutte le impurità che ci sono all'interno, se le porta via l'aria, se la porta via, e poi dopo che abbiamo applicato la pressione, si fa riposare la vela, diciamo, un tot. Infatti, tipicamente la pressione viene applicata, anche nel nostro caso ad esempio, insieme al riscaldamento del locale, insomma, chiaramente, nel momento in cui la riscaldi, chiaramente, cioè nel momento in cui i propri espelli, la vela tende a espellere, i gas, quelli che sono i gas immediatamente, però chiaramente, poi dopo ha bisogno di raffreddarsi, e di stabilizzarsi, se tu in questa fase, non avessi nessun genere di pressione, questa potrebbe, in teoria, rilassarsi, deformarsi, e quindi nuovamente la eliminazione finale, puoi peggiorare, invece tu, col vuoto a quel punto lì, la mantieni, dove è stata schiacciata, cioè nel stesso modo, in cui è stata schiacciata. E per questo, più o meno, quando uno lamina la vela, ci vogliono più o meno 24 ore dall'inizio alla fine. Esatto, quindi più o meno le 24 ore canoniche, ti servono per stabilizzare il coso, poi dopo in realtà la vela, continua ad avere un processo di polimerizzazione, anche nei giorni successivi, però poi in realtà a livello pratico, ciò che è rimasto laminato, poi non si muove più. Esatto. Va bene, ciao e buona giornata. Ciao.